si dice abitualmente che l'europa è un alleato degli stati uniti d'america cosicché secondo il modo comune di pensare si darebbe un nesso di alleanza fra stati uniti ed europa eppure a una più attenta analisi dei rapporti di forza si scopre che le cose stanno ben altrimenti e lo si scopre anzitutto se si considera un aspetto non trascurabile vale a dire il fatto che gli stati uniti d'america hanno le loro basi militari in europa disseminate su tutto il territorio europeo solo in italia ve ne sono circa 120 per non parlare di quelle segrete laddove invece negli stati uniti d'america non compaiono basi militari europee ciò basta a sottolineare come quello tra unione europea e stati uniti d'america non sia affatto un rapporto inter pares e dunque un rapporto tra alleati che si riconoscono e si rispettano nella loro autonomia e decidono di stringere una relazione di alleanza al contrario il rapporto tra stati uniti e europa è un rapporto che con egel diremo di servitù e signoria vi è un polo dominante quello a stelle strisce e vi è un polo dominato quello europeo se washington decide che occorre bombardare di volta in volta belgrado o bagdad l'unione europea deve eseguire cadavericamente l'unione europea sotto questo riguardo serve anche non secondariamente a garantire che l'europa tutta resti saldamente una colonia di washington quindi non funziona come viene spesso presentata a modi polo autonomo e sovrano al contrario l'unione europea garantisce stabilmente la permanenza dell'europa tutta come colonia di washington dunque un rapporto di subalternità integrale che fa sì che l'europa stessa resti stabilmente sotto l'egida e di più sotto il comando di washington la civiltà del dollaro grazie mille